Ben trovati al primo appuntamento della mattina con le notizie di canale 81 Lazio. Iniziamo dal blitz degli ambientalisti. Ieri a Fontana di Trevi si sono gettati nella Fontana davanti a centinaia di passanti e turisti. Poi armati di secchi hanno versato del liquido nero, non vernice ma carbone vegetale. Poi hanno esposto uno striscione contro l'utilizzo dei carboni fossili e hanno urlato il nostro paese e sta morendo. Gli attivisti di ultima generazione, gruppo d'azione ambientalista che compie proteste clamorose ormai ogni giorno a Roma e non solo, hanno cercato di attirare nuovamente l'attenzione sul tema climatico. Il risultato è che si discuta soprattutto dei danni collaterali di questo tipo di dimostrazioni. Vi chiedo di non farlo più, per noi è un dispendio di risorse umane e finanziarie, oltre ad uno spreco di acqua, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Frosinone stanno dando il loro supporto nelle aree dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione. Un impegno che va oltre il lavoro, una vera missione portata avanti con amore e tenacia a quella che anima i vigili del fuoco di Frosinone che nei giorni scorsi hanno raggiunto l'Emilia Romagna. Oltre le braccia e la forza ha commentato il presidente della provincia, Luca Di Stefano, anche sorrisi e abbracci. A loro va tutto il mio personale ringraziamento, quello di tutta l'amministrazione provinciale e dell'intera comunità che ho l'onore di rappresentare. Va avanti il progetto per il termovalorizzatore ed è l'assessore ai rifiuti Sabrina Alfonsi ad annunciare che tutto prosegue come da progetto. Nel portare avanti il programma stabilito, l'assessore analizza con soddisfazione i dati del rapporto ACOS in merito al primo trimestre 2023. Il bilancio delle attività svolte finora per l'Alfonsi è positivo ed è con soddisfazione che sottolinea che si iniziano a vedere i primi risultati. Entrando nello specifico, è l'utilizzo dei cassonetti per la differenziata che inizia a registrare un servizio più puntuale che dovrebbe far ben sperare per l'incremento della raccolta differenziata. Nonostante qualche neo, tra i quali la raccolta della carta, l'assessore Alfonsi si dichiara soddisfatta per l'aumentata pulizia intorno ai cassonetti e dei cestini. Da ieri fino al primo novembre, in occasione della tredicesima giornata nazionale delle dimore storiche, apre al pubblico l'area pasiaggistica ed archeologica del Gran Caro a Bolsena, in provincia di Viterbo. La seconda edizione del Parco Sculture Gran Caro Welcome on Board 2023, in forma a una nota, ospiterà opere d'arte contemporanea Open Air, che si snodano in uno dei luoghi più misteriosi, energetici e suggestivi del lago di Bolsena. Roma ti amo e poi con la solo con chitarra, I'll see you in my dreams. Bruce Springsteen si è congettato dalla città eterna e dai 60.000 spettatori che hanno affollato, colorato e animato il Circo Massimo è cantato anche con il 73enne, rocker statunitense, tre ore di musica eccellente, un inno alla musica, un'opera d'arte con dei boss che non si è mai risparmiato ed anzi ha cercato l'abbraccio, il contatto con la folla, effettuando diverse incursioni dal palco, percorrendo le passerelle laterali e quella centrale. E dopo sette anni il ritorno nella capitale è stato un successo annunciato, poi il deflusso lento ma regolare del pubblico dal Circo Massimo. Basta un gol su rigore di Ciro Immobile alla Lazio per sbancare lo stadio Friuli e superare l'Udinese facendo un grande passo avanti in zona Champions. La svolta del match arriva al sessantesimo, Masina a terra Immobile in area, Paeretto indica il dischetto dagli 11 metri allo stesso bomber biancoceleste col numero 17 a spiazzare il portiere friulano per l'1-0 della Lazio. Gli ultimi assalti friulani sono vani, i tre punti sono così della Lazio che risale al terzo posto scavalcando l'Inter a quota 68. Questa è l'ultima notizia per questa prima edizione, appuntamento a più tardi sempre con Canale 81 Lazio.